casette d'ete bimbo di un anno muore travolto da uno scuola bus niente sgombero a casa moneti altre due settimane di tempo il ministro della cultura lancia a pesaro 2024 inizia il percorso di monsignor salvucci a vescovo di urbino dopo i furti villa fastigi torna a far festa con il carnevale buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è lunedì 6 marzo e apriamo questa edizione con una terribile tragedia che ci porta oltre i confini della provincia di pesaro rubino ed esattamente nel paese fermano di casette d'ete dove questa mattina un bimbo di 18 mesi è morto dopo essere stato investito da uno scuola bus il piccolo sarebbe sfuggito alla madre e avrebbe tentato di inseguire la sorella maggiore salita sul bus finendo per essere travolto dal mezzo il conducente dello scuola bus non si è accorto di nulla e si è fermato solo dopo aver udito le strazianti urla della madre del bambino una donna pakistana gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso ed ora torniamo a pesaro in queste ultime settimane ha fatto molto discutere in città il caso della famiglia moneti alla quale nonostante una delicatissima situazione è stato intimato lo sfratto dalla propria abitazione di soria uno sgombero che questa mattina è stato scongiurato solo dal mancato intervento delle forze di polizia vediamo il servizio doveva esserci lo sgombero c'è stata invece un'altra proroga la famiglia del giovane imprenditore alessandro moneti da nove anni in carrozzina a causa di un grave incidente stradale è infatti obbligata a lasciare libera la propria dimora questa mattina era atteso lo sgombero dal civico 53 di via persoria a causa di un procedimento di esecuzione immobiliare successivo alla confisca e vendita all'asta della casa assegnata a un nuovo proprietario mattinata in cui è stato però bloccato il secondo mandato di sfratto per il mancato intervento della forza pubblica dopo ore di colloquio fra le rispettive parti legali la famiglia moneti ha ottenuto un ulteriore rinvio di altre due settimane famiglia che infatti assicura che lascerà la casa ma chiede solo più tempo per organizzarsi i debiti che la affliggono sono stati generati dai costi della riabilitazione di alessandro per la quale non si sono appoggiate a nessuna assicurazione in quanto quella famosa mattina di nove anni fa il pirata della strada che causò l'incidente scappò senza lasciare traccia e senza dare l'opportunità al ragazzo di avere il giusto apporto economico in dato odierna il rilascio non è avvenuto per assenza della forza pubblica verrà fissato un ulteriore data anzi già stata fissata dal delegato al livello custode della procedura un'altra data e in quella situazione poi vedremo non sappiamo gli sviluppi non li conosciamo nemmeno noi comunque la famiglia moneti si sta adeguando per reperire una nuova abitazione una nuova collocazione abitativa ovviamente nel rispetto di quelle che sono le loro esigenze oggettive e pratiche sostanzialmente tutto qui sono due settimane brevissime per correre per trovare quello che ci serve perché se posso vorrei evitare di non andare in appoggio da qualche parte perché altrimenti è più difficile se non posso ci adattiamo due settimane perché di più non riescono a dare per i tempi tecnici siamo in attesa comunque della data anche da parte vediamo se possiamo magari intanto noi dobbiamo trovare questa abitazione noi ci siamo già attivati per cercare questa abitazione non è facile perché dobbiamo trovare un'abitazione che sia giusto come vi ho detto più volte per alessandro ci abbiamo dei contatti speriamo in settimana di concludere qualcosa di buono perché non vogliamo più ripassare per queste situazioni soprattutto non vogliamo passare da quelli come ci hanno additato che vogliono approfittare di questa situazione abbiamo delle persone anche che ci aiutano ci hanno sempre sostenuto in questo ultimo periodo anche perché noi non avevamo più le forze neanche per sostenere il percorso di alessandro perché in nove anni abbiamo finito tutto quello che avevamo però detto questo una famiglia che mi sta vicino ho degli amici delle persone anche che non conoscevamo che ci siamo conosciuti in questo frangente che mi stanno aiutando anche economicamente quindi siamo fiduciosi di risolverci proviamo a vedere se riusciamo in tempi così brevi a liberare la casa perlomeno a far vedere che abbiamo preso sta casa abbiamo provato a contattare la controparte per trovare un punto di incontro c'era una persona che era il nostro amico disposto a garantirgli anche le spese che stanno sostenendo per il mutuo per queste cose qui però la controparte non vuole non vuole sentirne abbiamo provato a contattarli per trovare un punto di incontro nel senso che lei dice che ha queste spese per la fila per il mutuo che sta pagando sostenendo erano disposti a a dargliele purché ci dia sto tempo per uscire in maniera più più serena e dall'altra parte non c'è stata risposta quindi non hanno voluto non hanno risposto comunque ecco questo è quello che è accaduto sono sollevato perché comunque abbiamo un ragazzino a scuola che deve tornare mia moglie che la dimettono oggi pomeriggio immaginate voi se avessimo dovuto uscire di casa oggi cosa sarebbe successo per quanto riguarda invece l'altra situazione per l'articolo che è uscito di vita cecolini penso che la situazione sia chiara a tutti noi eravamo una famiglia che non non era ricca ma non ci mancava nulla però i terreni le proprietà che abbiamo li abbiamo perse tutte adesso ale è solo in possesso di un piccolo pensamento di terreno che gli hanno donato i miei fratelli per poterli fare aprire questa situazione questa azienda agricola quindi è tutto lì tanti gli attestati di vicinanza alla vicenda della famiglia moneti compreso quello di col diretti che ha preso parte alle concitate trattative parcheggiando un simbolico trattore davanti all'ingresso noi siamo stati a fianco ad alessandro fin dall'inizio quindi e alla famiglia per cui questo trattore è un simbolo di vicinanza alla famiglia stessa anche perché lui è un imprenditore agricolo la sua attività da poco tempo da circa un anno è diventata quella dell'azienda agricola è un nostro associato e noi come tale gli stiamo vicini e lo stiamo difendendo tra virgolette ma quanto meno gli stiamo dando un appoggio soprattutto morale il leader del movimento io apro umberto carriera è stato convocato questo pomeriggio in tribunale per il processo che lo vede querelato per diffamazione dal capo della squadra mobile paolo badioli una querela che scaturì da video postati sui social che immortalavano le azioni della polizia durante un blitz proprio nel ristorante di carriera che all'epoca violava le norme di apertura in tempo di pandemia queste le parole di carriera a margine dell'udienza un'udienza importante sì su questo video che ho diffuso semplicemente perché sono rimasto sconvolto quella sera dall'intervento massiccio come sapete il 15 gennaio di ormai due anni fa intervennero ben 20 agenti in borghese e non a ristorante chiuso ristorante vuoto insomma tutti sapevano chi avrei aperto ho sempre aperto rispettando le regole ho aperto in zona gialla a pranzo con la mascherina col distanziamento rispettando tutte le regole previste di pcm e aprivo anche a cena per una necessità economica chiaramente c'erano affitti mutui da pagare e aprivo rispettando le regole tante volte ho aperto i miei ristoranti e mai ho filmato ciò che accadeva perché intervenivano comunque sempre due o tre vigili nel pieno rispetto delle norme e nel pieno rispetto di quello che è il loro lavoro anche oggi nella nostra quotidianità quindi a me da parte mia sempre massima solidarietà per per le forze dell'ordine per quello che fanno e grande rispetto quel giorno 20 agenti al ristorante chiuso chiaramente ho ritenuto un intervento inopportuno inadeguato e mi sono sentito di filmare chiaramente ciò che accadeva anche perché di firmare quello che sarebbe accaduto quella sera e quindi eventuali comportamenti a mio parere sopra le righe da parte del governo che mandava questi agenti in giro per tutta italia a reprimere questi ristoratori questi imprenditori mi era stato chiesto da tanti politici da Matteo Salvini da Vittorio Sgarbi ricordiamoci che Matteo Salvini era il ministro dell'interno qualche anno fa oggi il vice premier e mi chiedeva proprio lui nelle nostre conversazioni su whatsapp nelle nostre chat appunto di documentare sempre tutto per sostenere insomma l'iniziativa di io apro sono sono molto molto ottimista francamente ho pubblicato un video ho commentato semplicemente ho scritto guardate cosa è accaduto questa sera e poi ci sono stati numerosi commenti chiaramente alcuni a favore alcuni contro questi commenti alcuni disdicevoli da parte di utenti che poi sono stati riconosciuti dal commissario Badioli e io credo che lui avrebbe dovuto querelare quelle persone e non querelare me perché ho firmato ciò che accadeva all'interno del ristorante. Ero sostenuto chiaramente da Vittorio Sgarbi da Matteo Salvini a due centrodestra non anche da fratelli da fratelli d'Italia che oggi al governo proprio Matteo Salvini ex ministro dell'interno e attuale vice premier mi chiedeva di documentare diffondere ciò che accadeva e quindi siccome io in quel momento ero anche in qualche modo non esponente del popolo ma mi stavo affacciando anche al mondo della politica nazionale ho condiviso questo loro pensiero e ho pubblicato insomma sui miei profili e non soltanto sui miei profili perché poi è un video che è diventato virale ciò che è accaduto quella sera ma in quel periodo c'erano centinaia e migliaia di video che riprendevano gli interventi delle forze dell'ordine che non facevano altro che fare il loro mestiere è chiaro la mia battaglia è sempre stata contro il governo e contro le restrizioni che ritenevo inopportuni e adeguate perché appunto non c'era poi un corrispettivo economico per le imprese ricordiamo le oltre 20.000 aziende tra bar e ristoranti che hanno chiuso negli ultimi due anni nel nostro paese proprio per le problematiche relative al covid. Il percorso di Pesaro Capitale della Cultura 2024 ieri ha ricevuto importanti attestati di sostegno dal Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano presente in città come ospite d'onore di un convegno che si è tenuto in prefettura. Pesaro Capitale della Cultura 2024 sospinta dalla benedizione del Ministro della Cultura. Gennaro San Giuliano ha fatto tappa domenica mattina in città in occasione del convegno dal titolo egocentrica tenutosi in prefettura e organizzato da Mati Group. Una tavola rotonda dal focus incentrato a ripensare gli immobili per una nuova cultura dell'abitare volta a ripopolare i centri storici e a mantenerne intatte le identità. Un tema caro al Ministro ospite d'eccezione di un evento che ha sottolineato anche l'appoggio dell'esecutivo al percorso di Pesaro Capitale. Pesaro è storicamente una città molto importante, basta visitare questo salone, apprenderne la storia per rendersi conto di quanto questa città abbia da dare anche in termini di cultura e di turismo della cultura. Noi siamo impegnati a sostenere la città di Pesaro e i suoi cittadini per, come dire, meglio rappresentare questa grande occasione. Dalla capitale della cultura alla valorizzazione dei borghi, il Ministro ha confermato come anche la provincia pesarese attingerà dal miliardo previsto dal PNRR per valorizzarli. Conosco bene Pesaro e conosco bene le Marche e ne conosco il grande valore storico di questo territorio, questo territorio ricco di storia, soprattutto nelle zone interne, ha tantissimo da far vedere e da offrire. Nel PNRR noi abbiamo il progetto sui borghi, finanziato con oltre un miliardo di euro, un progetto molto importante, siamo impegnati costantemente a spendere bene, con efficienza, con onestà e con lungimiranza queste risorse. Ministro Sanzioliano che nel Salone Metaurense è intervenuto assieme al prefetto greco, al vice sindaco Vimini, al presidente del Consiglio regionale Dino Latini e all'ex rettore dell'Università di Uibologna Ivano Dionigi all'interno di una tavola rotonda organizzata dal Centro Studi di Mati Group, azienda sempre più radicata nel territorio e timonata dal presidente della Vispesaro Mauro Bosco che ha invitato a ripensare il concetto dell'abitare gli spazi pubblici. Il tema è ammodernare, rendere funzionali, più sostenibili i luoghi storici dei borghi e delle città per rivitalizzarli, perché è chiaro, avere e vivere solamente, diciamo così, del pregresso storico, chiaramente non aiuta nemmeno la socializzazione e nemmeno le fasce economiche. Quindi sostanzialmente gli interventi devono essere evocate ad una tutela dello stock immobiliare storico ma anche ad una sua rigenerazione perché questo è irreversibile, altrimenti li costringeremo ad una desertificazione perché il comfort abitativo è, diciamo così, ormai un tema del consumatore immobiliare e se lo ricercano in periferia chiaramente i luoghi storici e i borghi che sono l'anima identitaria dei territori viene a perdersi. Da dieci mesi Monsignor Sandro Salvucci è arcivescovo di Pesaro, da ieri lo è diventato pure di Urbino. Vediamo quindi il servizio. Dieci mesi dopo essere diventato il nuovo vescovo di Pesaro succedendo ai 18 anni di Monsignor Piero Coccia Sandro Salvucci è diventato ieri anche vescovo della diocesi di Urbino, Urbagna e Sant'Angelo Invato dopo un percorso non privo di polemiche susseguenti alla decisione pontificia di far tramontare l'autonomia della diocesi urbinate allargandola a un percorso religioso unito a Pesaro. Al di là della diserzione di alcuni dei più strenui difensori dell'autonomia urbinate, ieri il vescovo Sandro è stato accolto in Duomo fra i sorrisi, dal sindaco Gambini al vescovo uscente Monsignor Tani. Salvucci ha ufficiato una cerimonia all'insegna dell'esortazione a un percorso condiviso nell'ascolto al Vangelo e nella grande attenzione verso l'impegno per i giovani additati come veri protagonisti del cambiamento. Basta che ci guardiamo attorno e ci rendiamo conto che siamo di colori diversi, di provenienze diverse, con ruoli e ministeri, servizi diversi sia nella Chiesa che nella società. e mi piace pensare che stiamo tutti qui sul monte condotti da Gesù per fare un'esperienza di Lui, per incontrarci con Lui, per riconoscere chi è davvero Gesù, che ci ha attirati tutti a sé e ogni volta dovrebbe essere così, fare un'esperienza che ci cambia, che ci converte e uscire, scendere dal monte, anche letteralmente, anche fisicamente, cambiati, trasformati, toccati nel cuore. Ecco, questo è il desiderio e l'augurio che voglio condividere con tutti voi, con tutti voi. Cambiamo di nuovo argomento. Nel comune di Terre Roveresche mille persone hanno partecipato ieri alla marcia collettiva per dire no al biodigestore da realizzare nel territorio di Barchi. Un corteo si è mosso lungo 5 chilometri dal Palazzo dello Sport Comunale fino all'area dell'ex discarica individuata per realizzare l'impianto. La manifestazione è stata organizzata a pochi giorni dall'udienza di ricorso al TAR avanzata dal comune di Terre Roveresche e dal comitato formatosi in opposizione al biodigestore autorizzato dalla provincia. Assieme al comitato i sindaci di Terre Roveresche fra Terosa e Mondavio hanno guidato il corteo illustrando alla cittadinanza l'impatto che questo impianto potrebbe avere su un'area collinare vocata all'agricoltura di qualità. In occasione dell'8 marzo Festa della Donna l'azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino celebra la ricorrenza consentendo di effettuare gratuitamente pap test a tutte le donne in età compresa tra i 25 e 65 anni che negli ultimi tre anni non hanno effettuato il controllo. Una grande occasione di prevenzione per il tumore alla cervice uterina con screening che saranno effettuati proprio mercoledì 8 marzo dalle 15.30 alle 18.30 in tutte le sedi dei consultori provinciali. L'azienda sanitaria consiglia di concordare l'orario dell'esame chiamando il numero 0721 19 32 207 domani mattina 7 marzo dalle 10 alle 14.00. E sempre domani però alle ore 18 la Biblioteca Oliveriana ospiterà il direttore della Galleria Nazionale delle Marche Luigi Gallo per una conversazione sulla mostra Arte liberata 1937-1947 capolavori salvati dalla guerra mostra visitabile alle scuderie del Quirinale di Roma fino al 10 aprile e organizzata proprio in collaborazione col Museo Urbinate quello di domani sarà un incontro di approfondimento sui temi della salvaguardia e tutela dei beni artistici. Grande spettacolo domani al teatro sperimentale con la rassegna teatro oltre che alle ore 21 riporta a Pesaro una delle massime esponenti italiane del teatro contemporaneo come Emma Dante la Dante proporrà il tango delle capinere tratto dalla sua fortunata trilogia degli occhiali protagonisti sul palco gli attori Sabino Civilleri e Manuela Lossicco il conservatorio di Pesaro inaugura la stagione primaverile con la rassegna i concerti del conservatorio che da domani 7 marzo fino al 18 aprile vedrà gli studenti del conservatorio duettare con i loro docenti in 10 appuntamenti musicali sul palco della Sala Bay della provincia di Pesaro Urbino ad inaugurare i concerti domani alle 18.30 sarà il violinista Daniele Brancaleoni docente di violino al conservatorio con una ventennale esperienza di interprete ieri mattina più di 300 pesaresi si sono alternati in gruppi da 15 persone per visitare i tre ettari dell'area protetta dei laghetti del parco Miralfiore dopo i recenti interventi di riqualificazione effettuati dal comune c'è stato anche chi come una studentessa ha voluto liberare nei laghetti i pesci che non poteva più tenere nell'acquario di casa l'assessore Enzo Belloni ha annunciato che le visite a questa area naturalistica saranno replicate ogni prima domenica del mese dopo settimane davvero inquietanti a causa del susseguirsi di furti nelle abitazioni Villa Fastigi è tornata ieri a sorridere per fortuna con le sfilate di un carnevale che ha radunato nel quartiere migliaia di visitatori c'eravamo anche noi amiche amici di Rossini TV oggi siamo a Villa Fastigi per questo carnevale infinito un carnevale che non finisce mai 5 marzo siamo comunque ancora qua giornata bellissima perfetta per un prolungamento appunto di questa grande festa che piace a tutti abbiamo tante animazioni tanti carri li andremo a conoscere a scoprire ve li faremo vedere intervisteremo anche le maschere migliori insomma come nella miglior tradizione di Rossini TV ancora una volta presenti a uno dei momenti più belli più divertenti del nostro territorio avete fatto bene aspettare una settimana sì qualcuno ha brontorato però insomma tanto domenica non era possibile ha fatto di più non ne poteva fare di acqua quindi oggi il tempo è bellissimo la gente sta arrivando quindi andiamo principalmente la cosa più importante che riprendiamo dopo tre anni di stop abbiamo deciso la domenica per problema di logistica perché molti lavorano devono hanno problemi al lavoro per prendere la giornata tutto e loro proviamo a farlo di domenica e vediamo la pizza Rossini sei di Pesaro se cosa? se sei di Pesaro perché siamo una grande città meritiamo questa festa sono il vice capo di la verità perché c'è Gino il grande personaggio di questa carnevalesca e comunque il nostro Carlo vincerà sicuramente siamo i più bravi i più belli abbiamo il grande direttore d'orchestra le pizze abbiamo il gioco calcio il rugby tutto quello che simboleggia il Pesaro i bagnanti quindi vinciamolo sicuro abbiamo trovato anche un mercoledì ma oggi ma oggi è domenica eh pazienza è mai mercoledì è di moda abbiamo beccato Babbo Natale fuori stagione qui Babbo Natale già non è stagione di carnevale perché sarebbe già passato addirittura per il Natale siamo proprio fuori posto se vogliamo è sempre Natale se vogliamo è sempre Natale ogni giorno il carro che avete fatto vuol prendere questo tema qua insomma siamo tutti più buoni e deve essere dobbiamo vivere sempre come a Natale sì sempre come a Natale ogni giorno è Natale bell'idea con Massimo che è venuto con la tribù e ci ha un po' spiazzato insomma perché siete vestiti così? perché ce l'avevamo fermi nell'armadio dopo c'è stato il Covid e vogliamo andare a fare una castata a Villa Pastigi che è tra l'altro il mio paese di nascita bella tribù eh Erika che cos'è questa vostra installazione? che cosa proponete? che cosa ci raccontate? allora noi proponiamo Andy Canebon che è Master Chef quindi abbiamo tutti gli chef stellati bloccatelli barbieri cannavazzuolo e tutti gli ingredienti ai bambini che ci cucinano allora li abbiamo presi proprio alla fine adesso abbiamo quasi fatto e allora Presidenti com'è andata? alla grande è andata pieno di gente i bambini di mascherine contentissimi il doppio giro è sempre efficace la gente segue? si seguo seguo seguono sempre bene siamo contenti insomma soddisfatti? molto soddisfatti 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 grazie a tutti i cittadini e a tutti i cittadini della provincia di Pedro che è partecipato a questo carnevale grazie e allora vi ricordiamo che lo speciale integrale il racconto del carnevale a Villa Fastigi lo potrete vedere mercoledì sera alle ore 21 e 40 sul canale 80 quindi su Rossini TV e vi aspettiamo per vederlo assieme a voi e in chiusura di questo telegiornale come sempre gli aggiornamenti dello sport nel fine settimana brusco rientro dalla sosta post Coppa Italia per la VL che alla Vitri Frigo Arena crolla con brindisi con un 70 a 100 che mette il carico al momento negativo dei biancorossi e ne evidenzia la lacuna dei mancati rinforzi nel roster una criticità ammessa dallo stesso Repegia a caldo del post partita senza totè infortunate con Charalampopoulos che va a KO dopo due minuti la VL sta in partita solo nel primo quarto per poi subire brindisi che prende il largo infilando una serie di parziali dal più 16 di fine primo tempo al più 19 di terzo quarto fino al 70 a 100 finale che ribalta clamorosamente anche il più 28 della VL in terra pugliese all'andata rinforzi a parte nel post partita Repegia fa anche mea culpa per una VL che non si è dimostrata squadra nessun sorriso nemmeno per la Vispesero che china il capo alla forza della capolista reggiana che passa al Benelli 0 a 3 conquistando un altro passo verso la serie B la Vis resta in gara a mezz'ora e poi cede su calcio d'angolo al gol del difensore Kautz al 27esimo nel cuore della ripresa lo 0-2 arriva ancora su calcio d'angolo e con un altro difensore il capitano Rozzio prima dello 0-3 firmato dal subentrato Varela è una sconfitta che fa scendere la Vis da sest'ultima a quart'ultima ovvero in piena zona play-out in serie D l'Alma Fano reagisce al caos societario che la circonda travolgendo 5-1 l'Avezzano grazie alle reti di Capezzani, Schiaroli, Broso, Nappo e Drolè nelle rugby continua il mal di trasferta per la Fiorini-Pesero che perde a Livorno incassando la quarta sconfitta consecutiva dopo un primo tempo chiuso sul 17 pari i Toscani vincono il match 36-20 nella pallavollo giuisce invece la Megabox Vallefoglia che Urbino batte 3-1 la Virtus Bergamo ottenendo la seconda vittoria consecutiva e ammiccando a un pensierino ai play-off Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma come tutti lunedì questa sera alle ore 21.20 torna Check Up Obiettivo Salute questa sera parleremo delle piede del bambino e lo faremo con la dottoressa Giada Salvatori e poi subito dopo alle 21.40 Job Talent questa iniziativa organizzata da Confartigianato Imprese che racconta il portale del lavoro che facilita l'incontro tra domanda e offerta domani vi aspetto nella nostra rassegna stampa puntuali alle 7.20 in diretta sul canale 80, in diretta sul nostro sito internet RossiniTV.it e sulla nostra pagina Facebook Ed ora vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni intanto vi auguro una buona serata